Ecco il nuovo Ashen P1 di Huawei, display Super AMOLED in HD da 4,3 pollici, fotocamera frontale da 1,3 megapixel, fotocamera posteriore 8 megapixel in full HD, possibilità di attivare l'HDR, foto panoramiche direttamente dall'applicazione fotocamera, riconoscimento dei volti per quanto riguarda le foto dei gruppi e caratteristica fondamentale è il photo editing, si può andare quindi ad editare qualsiasi foto direttamente dalla galleria fotografica, per quanto riguarda le varie caratteristiche come Instagram e Photoshop non c'è più bisogno di scaricare applicazioni di terze parti ma si va direttamente nativamente dall'applicazione nativa del telefono, ovviamente si può andare a condividere su tutti i vari social network, mail e programmi di messaggistica. Spessore di 7,68 mm, peso 130 grammi, per quanto riguarda il processore abbiamo un doppio processore da 1.5 GHz, ice cream sandwich, la versione 4.0.3, ecco qua.